Musica Risposte sul campo, questo è il titolo della nuova trasmissione sull'agricoltura che è stata voluta da Confagricoltura Grosseto, siamo con il presidente Antonio Francesco Vivarelli Colonna perché questa scelta di cominciare a comunicare anche attraverso la televisione con gli agricoltori? Ma all'insegna del nostro potenziamento dell'attività di comunicazione mediatica, telematica e quindi anche televisiva va in quest'ottica, sicuramente oggi è impensabile stare sul mercato come associazione agricola senza essere presenti sia sulla carta stampata ma soprattutto sulla televisione bisogna arrivare direttamente appunto al fruitore, al cliente o al potenziale fruitore e quindi nell'ottica di questo anche alla luce dei recenti mutamenti per quanto riguarda la politica agricola comunitaria i piani di sviluppo rurale, i progetti integrati di filiera la necessità di essere pragmatici, di essere pratici e di arrivare direttamente appunto a far capire quali siano le possibilità, le potenzialità di sviluppo, di impresa offerte dai meccanismi comunitari regionali e provinciali abbiamo ritenuto opportuno instaurare questo tipo di collaborazione con un emittente molto importante della provincia di Grosseto per fare in modo che questa nostra comunicatività si amplifichi e arrivi a chiunque protagonisti di questa trasmissione saranno gli agricoltori con i loro problemi, i loro dubbi e le loro richieste che porranno all'associazione che darà le sue risposte e per questo motivo diamo subito la parola a uno di loro Ho sentito parlare del premio di primo insediamento per i giovani agricoltori, di cosa si tratta? Nella nuova programmazione del piano di sviluppo rurale che copre un periodo che va da 2014 a 2020 abbiamo tra le altre la sottomisura 6.1 che si chiama pacchetto giovani perché pacchetto giovani? Perché prevede incentivi all'avviamento di nuove imprese condotte da imprenditori che hanno un'età compresa tra i 18 anni e i 40 non compiuti La domanda si potrà presentare entro il 2 novembre del 2015 per l'annualità corrente I giovani imprenditori contemporaneamente alla domanda presenteranno anche un piano di investimenti la cui spesa minima sarà di 50.000 euro Il piano di investimenti dovrà essere concluso entro 30 mesi In questo periodo l'imprenditore dovrà impegnarsi a fare tutta una serie di cose tra cui l'iscrizione come imprenditore agricolo a titolo professionale e quindi non provvisorio per cui dovrà acquisire anche le capacità e le competenze tecniche richieste L'azienda nella quale l'imprenditore andrà ad insediarsi non necessariamente dovrà essere posseduta al momento della presentazione della domanda ma sicuramente la si dovrà possedere in fase di completamento di domanda L'azienda dovrà avere uno standard output compreso tra 13.000 e 190.000 euro Ovviamente ci sono delle tabelle che ci permettono di fare il calcolo per capire se l'azienda nel quale il giovane imprenditore vuole andare ad insediarsi ha le caratteristiche L'imprenditore può venire in confagricoltura e noi siamo in grado di fare la simulazione per capirlo Il giovane deve essere in possesso della partita IVA da non più di sei mesi al momento della presentazione della domanda Si può insediare come ditta individuale o come società sia come società di persone che come società di capitali Nel caso in cui si insedia come società diciamo l'insediamento può essere in contemporanea fatto da più giovani fino a un massimo di cinque Ovviamente sia il contributo e il premio che le caratteristiche si moltiplicheranno per tutti e cinque le persone o per il numero di persone che andrà ad insediarsi Nel presentare il piano di investimenti c'è l'obbligo di aderire contemporaneamente ad una o tutte e due sottomisure di investimento che sono quelle del gruppo 6 o quelle del gruppo 4 Per quanto riguarda il gruppo 4 abbiamo la possibilità di fare investimenti o nella produzione primaria o nella trasformazione oppure nel settore delle energie rinnovabili Per quanto riguarda la sottomisura del gruppo 6 abbiamo sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extraagricole In questo caso noi possiamo fare per esempio investimenti nel settore agrituristico oppure nel settore delle energie alternative A quanto ammonta il premio e in quanto tempo viene erogato? Le forme di finanziamento sono il premio all'avviamento e il contributo agli investimenti Nel primo caso abbiamo un premio di 40.000 euro oppure di 50.000 euro per le aziende che ricadono internamente in area montana Si sono erogati in due tranche Una prima parte è pari al 70% e viene erogata al momento dell'avvio del piano aziendale a fronte di una presentazione di una renanzia fiduciusoria a favore di artea pari al 100% del premio richiesto e l'altro 30% invece è erogato a fine del piano aziendale e non è richiesto in questo caso una rendicontazione degli investimenti proprio perché è un premio aziendale Per quanto riguarda invece i contributi agli investimenti variano in funzione della sottomisura che è attivata Nelle sottomisure 4 dove si hanno investimenti sulla produzione primaria il contributo è pari al 50% oppure con un'aggiunta del 10% per aziende che ricadono internamente in area montana oppure del 40% nel caso in cui l'investimento si riferisca ad attività di trasformazione o commercializzazione Per quanto riguarda invece il gruppo 6 che riguarda prevalentemente l'attività ritoristica si ha un contributo del 50% o maggiorato del 10% nel caso in cui l'azienda ricade in area montana è possibile la contribuzione anche di investimenti che riguardano energie rinnovabili e in questo caso il contributo è del 30% Il pagamento di questo contributo può avvenire sia come anticipo quindi all'inizio dell'attività agricola fino a un 50% al massimo e a saldo quando il piano aziendale è completato Il contributo minimo assegnabile da ogni azienda è pari al 130.000 euro e la spesa minima invece per ogni piano aziendale non deve essere inferiore a 50.000 euro Per ogni sottomisura attivabile all'interno del piano aziendale il contributo minimo non deve essere inferiore a 5.000 euro Un premio quindi che incentiva l'agricoltura e facilita l'innovazione e il ricambio generazionale Certamente, uno dei problemi più grandi dell'agricoltura italiana e soprattutto dell'agricoltura giovanile italiana è il ricambio generazionale Differentemente da Germania, da Francia e da Spagna e da altri paesi che hanno ben oltre il 50-60% di soglia di ricambio generazionale l'Italia si attesta attorno al 7-9% quindi siamo molto al di sotto delle medie europee Questa misura si differenzia tra l'altro da quella della precedente gestione del piano di sviluppo rurale che ha preceduto questo in quanto è molto più selettiva e molto più direttamente fruibile dall'associato e dal giovane imprenditore agricolo quindi riteniamo che sia un valido strumento per permettere ai nuovi giovani il nostro futuro, il nostro presente più che il nostro futuro di entrare in un mondo del lavoro estremamente complicato estremamente complesso che ha bisogno sì di uno start-up ma anche di piani di defiscalizzazione di decontribuzioni e tutto un insieme di misure per fare in modo che questo gap culturale con gli altri paesi europei venga appianato Grazie a tutti Grazie a tutti